Le tartarughe marine comparverono negli oceani circa 110 milioni di anni fa, dal terziario iniziarono a diversificarsi e dal cretacico erano già distribuite in tutti gli oceani. Dalle quattro famiglie di tartarughe marine originarie oggi ne sopravvivono solo due, le chelonidi e le termochelidi, rispettivamente con sei e una specie. Quindi nella famiglia delle chelonidi troviamo la tartaruga comune, la tartaruga verde, la tartaruga dorso piatto, la tartaruga di Kemp, la tartaruga abbastanza olivacea e la tartaruga imbricata. Inoltre esiste una diatriba tra alcuni autori che considerano la tartaruga verde del Pacifico come una specie attestante e altri invece la considerano come una sottospecie della tartaruga verde. Ad oggi ancora non è stata riconosciuta come una specie attestante. Nella famiglia delle termochelidi c'è un'unica specie riconosciuta che è la tartaruga liuto, che inoltre è la più grande tartaruga marina ad oggi vivente. Grazie. 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 Grazie.